A raggiungimento degli 80 mi piace, proverò a fare questo glitch con voi in live qui su YouTube Quindi mi raccomando, vi conviene condividere il video con tutti i vostri amici Mi raccomando, fategli sapere che finalmente c'è anche un glitch per la stagione 3 del capitolo 2 di Fortnite E mi raccomando, 80 mi piace, proverò a farlo con voi in live su YouTube Raga, è passato un bel po' di tempo da quando vi ho portato sul canale l'ultimo glitch Ma adesso siamo tornati più carichi di prima con un glitch veramente pazzesco Infatti, come avrete letto dal titolo, vi andrò a mostrare un glitch che vi permetterà di ottenere 300.000 V-Bucks E se avete capito bene, 300.000 V-Bucks inerente alla stagione 3 del capitolo 2 di Fortnite Quindi mi raccomando, io inizio subito col dirvi Iscrivetevi al canale, attivando la campanellina delle notifiche per restare sempre aggiornati su ogni mio contenuto E se ancora non lo fate, vi invito a supportarmi nel negozio oggetti usando il codice creatore Joe Trattino X97 Tutto maiuscolo Allora ragazzoni, mi raccomando, questo è assolutamente un video in edito Che ha pubblicato di un ragazzo americano Che ha provato, insomma, a fare questo glitch Quindi al raggiungimento degli 80 mi piace Proverò a portarvelo proprio in live su YouTube E andiamolo ad analizzare Prima cosa che questo ragazzo dice di fare per ottenere questi V-Bucks Poi vi ripeto, lo andrò a provare io qui live con voi E di andare sul, diciamo, nei messaggi di Fortnite e scrivere Come vedete Season 2, Chapter 3, V-Bucks Glitch Alloked Quindi ovviamente ragazzi Season 2, Capitolo 3, V-Bucks Glitch Ovviamente alloked Quindi praticamente sbloccare questo glitch per i V-Bucks Ovviamente dopodiché non vi resterà che inviare il messaggio Come vedete in questo momento praticamente l'account è a 0 V-Bucks Ragazzi, il nome dell'account è 10 milioni Cioè ragazzi, 10 milioni di V-Bucks E vabbè che con questo glitch a 300 mila alla volta 10 milioni li otterrai Però il prossimo passo come vedete proprio qui dall'immagine e dal video E andare in opzioni di matchmaking personalizzato In modalità solo, quindi in singolo E di scrivere come password Avete presente un po' per i server privati 1-3-3-1 Ovviamente dopo averla scritta Lui vi chiederà di cancellare totalmente la password Quindi la dovete scrivere Dopodiché la dovete riaprire Custom, quindi opzioni di matchmaking personalizzato E cancellare la password Fare, accetta e ritornare nel menu di Fortnite Veramente semplicissimo, raga Mi raccomando, io vi ricordo Commentate, provate a fare questo glitch Fatemi sapere qui sotto nei commenti Se effettivamente funziona Perché appunto poi lo andrò a replicare io Dopodiché è veramente semplicissimo Il prossimo passo sarà quello di uno dei più importanti È quello di andare in reporting feedback Quindi praticamente contattare l'assistenza E fare report a bug Quindi praticamente contattare l'assistenza Come se ci fosse qualche bug Ovviamente andare su order Quindi altro E fare accetta In questo modo segnalerete insomma Da Epic Games la presenza di bug Ovviamente ci sarà la schermata in cui vi ringrazieranno E dopodiché guardando un po' Io veramente quando l'ho visto, raga Non potevo assolutamente credere ai miei occhi Perché è qualcosa di pazzesco Dovete nuovamente andare sul menu Però questa volta invece di andare in solo Scegliete la modalità Parti reale Come vedete Parti royal Andate su play Ed iniziate una partita In questa modalità Dopodiché dovete trovare The Arcade Ovviamente raga È semplicissimo Voi andate su parti reale Non appena sbucate Andate nel distributore delle armi E vi spunterà l'arco Lo prendete Dopodiché Andate in una cabina Telefonica In questo caso la cabina Per cambiarsi i vestiti Ed ovviamente dovete colpirla Con tre frecce Nell'arco Dopodiché Dopo averlo colpito Con le prime tre frecce Vi irrecate vicino Quando vi dirà Change outfit Quindi praticamente di cambiare L'abbigliamento Entrate nella cabina E guardate un po' in teoria Cosa dovrebbe spuntare 300.000 V-Bucks Gratuiti Grazie a questo glitch Allora raga Vi ricordo Questo video L'ha fatto un ragazzo Americano Ed è Dovrebbe essere Praticamente il primo glitch Per ottenere V-Bucks gratuiti Della season 3 Del capitolo 2 di Fortnite Vi ricordo che il raggiungimento Degli 80 mi piace Proverò a farlo con voi In live qui su YouTube Quindi mi raccomando raga Codice creatore Nel negozio oggetti Joe Trattino X97 Tutto maiuscolo Perché siamo vicini Ai 300 supportatori E detto questo Condividete il video Con tutti i vostri amici Per farlo insieme Raga Veramente qualcosa di pazzesco 300.000 V-Bucks Io non posso ancora crederci Quando ho visto questo contenuto Ho detto no Assolutamente Devo mostrarlo Perché è veramente qualcosa Di pazzesco raga Il primo glitch ufficiale Vi ribadisco Della stagione 2 Del capitolo 3 di Fortnite Infatti sono rimasto scioccato E intanto vi ricordo Che sono in live Qui su YouTube Tutti i pomeriggi Dalle ore 18.30 Quindi non potete assolutamente Mancare Perché faremo server privati Sfilate di moda Minigames E molto altro Appuntamento fisso Alle ore 18.30 E vi ricordo che A breve arriverà RCN Manux Pure Sulla piattaforma viola Trovate il link In descrizione Andate di corsa A seguirmi Perché lì invece sono in live Tutte le sere Dalle 21.30 Vi porterò Manux E rifaremo minigames Server privati E sfilate di moda Con Manux Vi farò sapere bene Ovviamente qui su YouTube Però mi raccomando Andatemi a seguire Perché sarà anche quella Un'occasione imperdibile Vi ribadisco Fatemi sapere qui sotto Nei commenti Se effettivamente Questo glitch funziona Perché vi ricordo Che lo andrò a provare Proprio con voi Lasciate un bel pollicione in su Condividete il video Con tutti i vostri amici Ciao Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti